Prima di dare la parola alle due relatrici che seguiranno, vale a dire a Demma Abate e a Natascia Danieli, quindi mi prenderò qualche minuto per dire alcune cose un po' su Cento, su queste cose, anche sulle... Eventualmente, visto che qua pare che all'inizio gli organizzatori abbiano portato una vasca di benzina, auspicando che si possa incendiare di una ripresa di interesse, io butterò fuoco sulla benzina. Nella speranza che possiamo riprendere una fase che andò indietro molti anni fa, con due volumi, su Cento, insomma, no? Perfetto, bene. Allora, io però dopo le farò anche, dedicherò qualche minuto a una lettera del personaggio a cui è dedicato questo convegno. Ma prima vorrei dire delle cose un po' di contorno, no? A cui sono arrivato anche, a dire la verità, non immediatamente, ma però io ve le vorrei buttare lì, perché secondo me sono un po' la struttura di un edificio di cemento armato dell'ebraismo, che spesso nella nostra mente non c'è. Una cosa è questa, no? Ebrei, ricchi, banchieri. Ebrei, tutti ricchi e quasi tutti banchieri. Ricchi, non c'entra con ricchi. A proposito, mi sono chiesto l'origine del cognome ebraico ricchi, che confesso che non so, dovrei fare una piccola indagine. Ricchi, non è la traduzione di un... non so, farò una piccola indagine sul cognome ebraico ricchi, perché ricca, non è cognome ma è nome, ed è l'italianizzazione di rifka, che in ebraico è Rebecca. Allora, ci si mangia la V, diventa ricca, che è sia Rebecca, e poi è bello dire che è ricca, magari, di bellezza, di bontà, prima che di soldi. E quindi, allora, la gente pensa che tutti gli ebrei si hanno stati ricchi banchieri. Ci sono dei motivi, perché mi sono... ho avuto degli scambi recentemente su queste cose che vi dico adesso, con Michele Luzzati, con Ariel Toa, con altri studiosi, che sono assolutamente d'accordo con le conclusioni in cui io sono arrivato. Allora, questo luogo comune, che gli ebrei sono ricchi e banchieri, probabilmente tutti, nasce dal fatto che effettivamente in Italia, negli archivi italiani, a partire dal tardo 300, 400, 500, ancora 600, non c'è stato quasi un paese di una certa rilevanza, tra cui quello dove sono nato io, in provincia di Mantua, che a Stengofredo, dove non ci sia stato il banchiere prestatore ebreo, su Pena, no? Erano i primi... le prime banche della storia, così. Allora, pare che la documentazione sui banchieri, essendo che un banchiere doveva fare una convenzione col comune che gli dà un documento fatto di capitoli, capitolato, che è rimasta agli archivi. Quindi, probabilmente, le fonti sui banchieri raggiungono il 70-80% delle fonti e non sono in ebraico. Allora la possono studiare in tantissimi. E molta gente fa questo sillogismo errato, 80% dei fonti sugli ebrei, l'80% degli ebrei sugli ebrei banchieri, l'80% degli ebrei era banchieri. Sbagliato? Perché un'altra cosa che dimentichiamo spesso è che in realtà noi non studiamo la storia. Noi studiamo la storia fatta da un 10-15% di ricchi, potenti papi, re, principi e banchieri. C'è stato un 80%, 85% di storia che è stata solo vissuta e non ha lasciato documenti, né monumenti, né archivi, né chiese, né iscrizioni, né incisioni, né cimiteri, nulla. Però c'è stata. Qualche volta dalla storia ufficiale, fatta da quel 15%, c'è qualche flash sulla storia dei normali, che vuol dire tendenzialmente miserabili, che non hanno lasciato documenti, e allora non hanno lasciato gli elementi per studiare la storia. Però ogni tanto vogliamo dircelo che quella che noi studiamo, e anche in campo ebraico, è spesso la storia di quella piccola percentuale di famiglie della ricca borghesia, eccetera, eccetera. C'è da dire che con la metà del Cinquecento un pochino qualcosa cambia, perché all'interno di un nuovo clima, diciamo, dell'urbanizzazione, c'è uno spirito del tempo che passa sia tra i cristiani che tra gli ebrei, c'è bisogno di cominciare a strutturarsi, di tenere archivi, eccetera, eccetera. Allora, anche le comunità, come i parroci su input del Concilio di Trento, devono cominciare, verso la metà del Cinquecento, a tenere i registri dei battesimi, i registri dei matrimoni, i registri dei morti, stati, danni, varie cose, così gli ebrei cominciano a strutturarsi in una organizzazione comunitaria, che ha dei massari, degli assessori, un consiglio, c'è una tassazione, spesso il 10% del reddito, quindi c'è una commissione di tassatori, così, fanno i registri dei morti, no? E quindi, per esempio, io per Lugo, comunità che era molto collegata a Cento, e vi dirò perché, il registro dei morti, 200 anni di registrazione di morti, tutti gli ebrei morti a Lugo, che sono tantissimi, e Lugo diventa importantissima, è alla biblioteca del Jewish Theological Seminary of America, New York. E io l'ho digitalizzato tutto, assieme a tutti gli ebrei di Lugo, a tutti i manoscritti degli ebrei di Lugo, che sono parecchi. Quindi, ecco, il fatto di questi registri, un pochino diventa la prima documentazione popolare, perché è il morto di fame, sia cristiano che ebreo, cioè, dice, e dopo ciò è morto Avram Ben Shlomo, sia la sua anionica e l'emico della vita, per l'uomo qualunque. Per i grandi rabbini ci sono due pagine del registro dei morti, con un motto di citazione biblica, dieci righe, venti righe, in prosa, che raccontano, che sembra di vederlo al video, la cerimonia, è morto, improvviso, chiudono i negozi, poi fanno così, poi la processione al cimitero, no? E poi siamo nel 600, 700, ancora su influsso dell'epoca barocca, poesie in rima e ritmo, in metro e rima. Allora, comunque lì, comunque, comincia adesso una documentazione che si estende un po' a tutti, però sostanzialmente resta che le stelle funerarie belle, scritte, sono mica del morto di fame, che se c'ha c'è un sasso, insomma, no? Ok, quindi, questa consapevolezza, e adesso vorrei aggiungere anche un'altra cosa, no? Perché pare che effettivamente, anche su questo mi sono consultato con i miei colleghi nel mondo, ma insomma, le famiglie della borghesia, i ricchissimi banchieri, o famiglie di banchieri nel mondo ebraico, ma poteva essere il 5-10%, essere larghi, ricchi, poi magari potevano esserci un altro 10%, 15%, un po', un po' abbastanza ricchi, ecco, ma insieme facevano il 15-20%, c'era un 70-80% di gente semplice che sbarcava il lunario, che non ha scritto niente, non ci sono manoscritti sparsi per le biblioteche del mondo, cioè ogni tanto questo bisogna che torniamo ad essere consapevoli, che studiamo una storia da una lente particolare, che è quella lì, e che comunque, d'altra parte non c'è alternativa, però essere consapevoli è importante. Altra cosa, dagli anni 60 in Italia c'è stato un'esplosione di interesse, un rigoglio di studi sull'ebraismo italiano specialmente, incredibile. E io, e anche Saverio, in occasione di tantissimi convegni, sentivamo Moshe Idel, che continuava a dire che, girando lui il mondo, che forse era più in aereo che con i piedi per terra, insomma, no? Tantissimo, diceva che un rigoglio, una fioritura di congressi, convegni, libri, studi sull'ebraismo, come in Italia, non lo vede nel mondo. Noi, per un po' di anni, non ci abbiamo creduto. Alla fine, abbiamo dovuto accettare questa corda, che è anche bella, no? È anche bella. Però, la stragrande maggioranza è stata fatta, appunto, su queste fonti, che sono ad extra del mondo ebraico, a meno che si studiassero le opere, insomma, sia in lingua ebraica che in traduzione, no? Ma l'opera non è proprio la primaria fonte storica, insomma, l'opera letteraria, cabalistica, piuttosto che di altro genere, no? Allora, cioè, sostanzialmente, ci sono tantissimi studi fatti da studiosi, storici, anche del barismo, che, non sapendo l'ebraico, invece, queste fonti, che forse sono l'80% sui banchieri, che sono, forse, qualcosa in latino e anche poi molto in italiano, le potevano fare, no? Però c'è stata una quantità esorbitante di studi ad extra, era la prospettiva cristiana del mondo maggioritario ospitante sulla minoranza ebraica, prevalentemente. Da qualche tempo si è iniziato a fare uno studio diverso di fonti ad intra, cioè compilate dagli ebrei per se stessi, dove l'ebreo ti fa capire che problemi ha, cosa pensa di se stesso, cosa vuole, come si rapporta l'autorità politica o religiosa del mondo maggioritario cristiano, ma è la gestione della vita interna della comunità. E questa fonte preziosa qual è? I registri comunitari. Allora, faccio una parentesi, che anche questa forse pochi sanno, no? E posso partire dal fatto che un mio collega, forse preside di una facoltà dell'Alma Mater di Bologna, distaccata a Forlì, una volta disse che cavolo ci fa, cavolo nel femismo, insomma, ebraico a beni culturali, perché io insegno alla facoltà distaccata di beni culturali. Ma quanto sei ignorante! lo sai che il 60, 70, qualcuno dice 80% dei beni culturali mobili che vanno dalle catacombe, beh, le catacombe ebraiche sono immobili della Sardegna, della Sicilia, dell'Italia meridionale, però, tutti quelli mobili, insomma, no? Cioè, che riempiono i musei di tutto il mondo oggetti rituali d'uso, intere sinagoga smontate dopo la seconda guerra mondiale, tra cui una qui di Lugo, numerate, io una volta a Mantua ho trovato un anziano che dice io nel 51 ero un falegname, ho smontato una sinagoga cinquecentesca, l'ho numerato tutti i pezzettini, l'abbiamo messo sulla nave e poi è andata in Italia, è stata rimontata. Cioè, allora, una quantità incredibile di tutti, poi non parliamo di libri, manoscritti ebraici, eccetera, eccetera, no? Che riempiono i musei, le biblioteche, le collezioni di tutto il mondo e viene dall'Italia. Adesso, in un ultimo studio, cioè, addirittura, prima dicevamo, i manoscritti ebraici interi, lasciamo stare i frammenti riusati, no? Che sono nelle biblioteche di tutto il mondo, si diceva, io avevo cominciato, il trenta per cento viene dall'Italia, colessirà una volta a Parigi mi ha detto, no, devi dire il cinquanta, adesso si è sul sessanta, settanta per cento, ci sono ragioni storiche, ragioni demografiche, però, è veramente incredibile cosa è stata l'Italia per questa cosa. Ma, torniamo ai registri comunitari, in Italia non ce n'è quasi più nessuno, ma, potrei dire al tempo stesso che è peccato o per fortuna, tutte e due le cose, perché guardate, quello di Lugo da una nota di Umberto Cassuto risulta a New York già nel 1919, quindi c'è andato presto. Voi sapete che con la seconda metà dell'Ottocento le comunità si sono disanguate, Mantova, il settanta per cento degli ebrei di Milano sono mantovani trasferiti a Milano e quindi lì c'è stato un po' un collasso nell'Ottocento, sia perché c'era la miseria, gli ebrei andavano nei grandi centri dell'industrializzazione, Milano, Torino, le grandi città, lavorare, dove c'era il lavoro. Ok, comunque, no? Allora, sostanzialmente Lugo è un esempio di una comunità che ha tantissime fonti dai registri comunitari ai manoscritti prodotti dai suoi eminenti rabbini studiosi sparsi nelle biblioteche di tre continenti però ci sono. Quel pochissimo che era restato a Lugo poco nel 1943 l'ha bruciato i fascisti e anche ha bruciato tanta roba i fascisti quando nel 1943 hanno devastato le sinagoghe, non parliamo di Ferrara, cioè roghi, massacri di decine di sifrettorà, oggetti rituali. Quindi, devo ringraziare chi ha venduto prima della seconda guerra mondiale è andato a New York, si è salvato, me lo sto studiando, due secoli di genealogie ebraiche dei del vecchio, dei da Fano, delle grandi famiglie ebraiche che erano a Lugo, è una cosa meravigliosa. Allora, sostanzialmente, sostanzialmente, bisogna che anche per Lugo c'è la possibilità di cominciare a studiare dei registri comunitari di Lugo che ci sono e sono i verbali delle sedute che il Consiglio della Comunità faceva, affrontava i problemi, l'aiuto ai poveri, la tassazione, le azime per pesa che venivano date a un prezzo agevolato, pagare una quota per pagare la cena al pesce, all'inquisitore che va a Lugo perché gli piace il pesce, cioè, poi supplicano che in deroga alle norme papali concedano che un cristiano o una cristiana non giovane di Shabbat possa accendere il fuoco nelle freddissime giornate invernali, no? Is Shabbat, no? Sì, quindi, no? Ecco, tutte queste cose, cioè, c'è la possibilità di fare anche per Lugo uno studio con una prospettiva all'interno, all'interno, cioè intra-ebraica, quello che ha scritto gli ebrei nei loro registri. Non possono menzionare una cosa, è qui presente Angela Contri che diversi anni fa fece con me una tesi sul cimitero ebraico di Cento ed è tutto pronto, anche qua, butto lì il cerino nella benzina, ma con qualche piccolissimo, pochissimo migliaio di euro ci facciamo un libretto, il comune, il sindaco, non so, volete farvi portavoce che è pronta, il testo ebraico con una traduzione, eccetera, anche questo è una cosa di Lugo ed è di prima mano, originale, molto bella. Allora, detto queste cose, io adesso vorrei concludere invece con un piccolo contributo che devo poi a un'amica di Gerusalemme che a Gerusalemme nella biblioteca del Mossad Rafkuk nel manoscritto numero 154 che si intitola in ebraico lettere di viaggi di un certo personaggio e di altre persone da e verso la terra di Israele del Settecento e qui compare, però siccome me l'ha comunicato pochi giorni fa sapendo di questo convegno, una parte, cioè una lettera scritta dal rabbino Emanuele Ricchi da Gerusalemme il 12 maggio del 1740. Sono 13 fogli in un corsivo italiano evidentemente non avendo la vista e non conoscendo la grafia autografa di Ricchi non posso dire se si autografa una coppia, però si potrebbe arrivare a stabilirlo. Io ve la leggo semplicemente e poi non è che ho dei particolari commenti, sono un paio di pagine, però trascritta mi sembra un bel contributo di prima mano e probabilmente mai nessuno se n'era occupato a questo piccolo convegno. Allora leggo è chiaramente italiano un po' settecentesco 1740. Vi dirò dunque come da Livorno sono arrivato in Alessandretta che è la scala d'Aleppo in ventun giorni con felicissimo viaggio che da Alessandretta ad Aleppo vi sono giorni tre di cammino per terra e per non essere io andato ad Aleppo per la strada solita solo per altro cammino sono passato per la città di Antiochia e colà ho fatto Shabbat e vi saranno in essa città da due minianin di Yehudim sapete che il miniano è il numero dieci di il minimo di dieci persone con le quali si può fare una preghiera ufficiale pubblica e la medesima si conosce la lei grandezza dal giro delle mura mentre traversa una grande montagna et ogni trenta in quaranta poi qui non si capisce una parola d'essa ve una toretta parte e diroccata e parte buona ma le cose di detta città sono in un cantone ed essa che si estendono ad una delle venti parti di detto recinto del muro e diciannove parti non vi sono altro che orti alberi e terra nigra e da là sono passato in Aleppo e davanti la città vi è un fiume rapido largo e dicono essere il Yabok importante il fiume biblico in Aleppo vi è un Bet Knesset una sinagoga molto grande parte scoperto e parte coperto nel quale vi sono ventidue colonne e sette Aronot Kodesh armadi santi tutti si aprono fuor che uno dicono che ne fu cagione un Nahash un serpente che in esso fu veduto e però fu da antico murato e dietro ad uno d'essi Aronot c'è una Meara che dicono essere quella di Elia Wanavi e detto Bet Aknesset asseriscono essere stati fabbricati quattordici anni prima del Kurban Abbaiceni distruzione del secondo tempio cioè sarebbero stati costruiti quattordici anni prima dell'istituzione del secondo tempio cioè avevano 1700 anni nel 1700 dopo un anno circa che sono stato in detta città di Aleppo e che ero destinato partire per Yerushalayim mi costò il viaggio da 50 zecchini veneziani ed ero io con mia moglie e figlio con due cameli di mie robe ed ognuno di noi a cavallo di muli ed il camino è quindici giorni circa ma in caravana si sta qualche giorno in più nel camino sono fermato a Hamat che è una terra molto allegra ed il comandante di Colà benché turco mediante la raccomandazione che avevo ed anche per essere franco trattò bene sì a me che a tutta la caravana che era da 150 Yehudim e per accordo fatto per lettera invece di 18 grossi è una moneta che costa per persona di Meckes non pigliò altro che sei grossi ed a tre in quattro a Niim non li pigliò cosa alcuna da Colà siamo passati a Dammeshek Damasco che è lontana da Aleppo circa otto giorni e detta Dammeshek è una città molto grande e le case a vederle di fuori paiono tutte batte chamor ma di dentro sono case bellissime e la quantità d'orti e giardini che vi sono come anche l'abbondanza d'acque sono cose di meraviglie di mondo tale che quasi non vi è casa che non abbia due in tre ma ayonot di maim haim sorgenti di acqua viva pura nella propria casa e fuori della città vi sono due fiumi di amanà uparpar che scorrono anche dentro il paese ma tutto il tratto che dentro la città e stretti che possono parlare una persona con l'altra ad una riva all'altra e con voce ordinaria e di intendersi benissimo ben si sono acque correnti e non navigabili già che quinci e quinci nel mezzo vi sono alberi e le acque sono molti buoni e in quei giardini vi sono quantità di giochi d'acque da dameshek poi siamo passati a shechem il quale sta da un lato dar gerizim che è fertile e dall'altro dar eval molto negro e nel campo vela chevura cioè la sepoltura di iosef assaddi con una cupola ed un piccolo cortiggio attorno e poi in luoghi colab vicini vi sono altre chevarot altre sepolture di elazar ve itamar ed altri tzaddikim che ora non mi puntini mi inoltrai poi a Yerushalayim e il loco detto sofim al giorno d'oggi non vè ma da ove si principia a cedere Yerushalayim che è poco discosto a Me'ara ove è seppellito Shemuel la navi la grotta dove si è portato il profeta e da ove si è Corea e Yerushalayim al giorno d'oggi è tutta girata di mura con otto porte sette aperte e una che è il Shahar Amistrah de Ar Abait e serata ciò è murata e sarà grande come due volte Gorizia circa più o meno ma Bli Gosma il terzo è Curva parte si vengono le curvote parte ove è Erev hanno fattovi Ginnot Upardessim e vi sono quantità di fichi da Dam che sono quelli con le spine e ve ne sono da Shechem e qui e qui in città sono molto buoni come anche cavoli fiori che sono Meshub Bahim e vi sono pure altri erbaggi non però come puntini ma sono meglio di quelli la maggior parte degli frutti che vi sono qui vengono da Dam Meshek perché nel paese vi sono pochi frutti fuorché due che ve ne sono quantità in Shevron poi più di qui qui i turchi sono molto ladri ciò che fanno ogni sorte da Von a Din per il denaro eccetera eccetera poi adesso salto un po' vi sintetizzo solo qualche parola giornalmente vi saranno qui da 1500 nefasciot persone ma Bligosma che due terzi sono donne e un terzo uomini Yeudim e Togarmim sono molti e vi sono tre conventi uno di Clatim di Spagna Francia Italia e Germania l'altro dei Greci l'altro d'Armeni è molti grande quasi come il castello di Gurizia e ve una contrada che è una toevà d'Armeni con una cupola le mura del Beta Migdash non si vedono solo che tutta la parte di Misrach che la medesima mura è della città e parte d'essa dalla parte del Arab eccetera il Nachal Kidron il fiume Cedron è subito fuori di Jerusalem sotto le mura del Beta Migdash che di là di detto fiume vi sono lì Ben Achaim ma in detto Nachal non v'è acqua se non quando cadono piogge e dalla parte presso di Jerusalem vi sono le Me Siloach acque di Silo che è una grande meara piena d'acqua e si abbassa con scalini di marmo e dall'altra parte in controdetto Me Siloach v'è un piccolo villaggio che lo chiamano Siluan le Kevarot Melachim sono in Sion sono le tombe dei re che si vedono ancora oggi e quindi ormai siamo verso la fine nel Beta Achaim v'è il Yad Afshalom che è una fabbrica di pietre vive lavorata nella cupola un poco v'è anche poco lontano il Kever di Zeccaria Annavi Zeccaria il profeta sono andato anche a Kevron e nel cammino sono passato lontano un'ora circa da Bethlehem nella Kevura di Rachel la tomba di Rachel la quale è sotto una cupola ma non lasciano lì togarmi entrare in essa n'uno e sono stato una notte in Bethlehem e anche là mi sono convenuti di franchi greci armeni e in molti luoghi di questi circonvinciti di Yerushalayim i pellegrini di Arellim da tutte le sorti da 1500 e 2000 e Cangino e prima d'andarve vanno ad immeggersi nello Yarden il fiume giordano che è circa un giorno lontano da qui nella parte di Miserà e termina con queste parole nella Meara a Macpela la grotta di Macpela non lasciano entrare nienuno che è solamente nell'antiporta o nel portico sopra e le pietre che vi sono in quel muro sono dismisurata grandezza e sopra detta fabbrica sonovi tre cupole che dicono ognuna essere fabbricata sopra un siun dell'Yavot e una d'esse la cima è rotta e dicono che è il siun la tomba di Isacco e che per volte che l'hanno accomodata sempre è ricascata e ad Iom v'è in mezzo di Kevron la brecha che dice il navi sono grande molto grande ed è piena di me geshamim acque acque piovane e nel cammino da Kevron a Jerusalem vi sono tre brechot maim molto grandi che da essa sotterra con canali viene l'acqua alle mayanot sorgenti che sono in Jerusalem questo è quanto ecco quindi insomma avete avuto un'idea anche se sono un po' saltato così di una di una lettera che lui scrive di quando appunto sta arrivando a Gerusalemme insomma potrà essere lui no non so non ci sono dati evidentemente bisognerebbe esaminare la meglio comunque niente io mi fermo qui e spero di non aver consumato troppo tempo e quindi chiamo qua la allora una brevissima presentazione della relatrice Emma è una brava giovane studiosa che si è laureata prima alla sapienza di roma poi ha fatto un dottorato poi come avviene oggi per quelli bravi non ci sono possibilità ha fatto un altro dottorato poi è stata a madrid a perfezionare i suoi studi anche a parigi ha collaborato molto sia con colessi rati che con judith schlanghera la catalogazione di manoscritti e adesso ha un assegno di ricerca a ravenna con me si è occupata di varie cose che vanno dal testo biblico ma da un po' di tempo lavora molto sui manoscritti e si è anche occupata di magia ebraica formule magiche cose che hanno avuto anche un'ampia letteratura ma non solo anche studi sul testo biblico anche di critica letteraria e quant'altro quindi lasciamo subito la parola a lei che ci parlerà di questo argomento le intenzioni della preghiera Kavanot nell'opera di Immanuel Chairiki grazie grazie Mauro grazie a tutti grazie per avermi invitato il mio compito è quello di parlarvi della Kavanah anzi la mia intenzione è quella di parlarvi di raccontarvi qualcosa della Kavanah in Kairiki che si può tradurre in effetti con intenzione potente e creatrice intenzione che ripara e che attiva i processi cosmici ma anche intenzione che guarisce in particolare vi parlerò dell'opera più significativa di Kavanot intitolata Mishnat Chassidim che è già stata presentata da Saverio la dottrina dei Pi che si presenta nella forma di un manuale per cabalisti composto a Livorno e pubblicato nel 1727 ad Amsterdam del Mishnat Chassidim come abbiamo visto sono state realizzate successive edizioni fino all'inizio del novecento dimostrando la vitalità e la circolazione di questa di quest'opera però prima di analizzarne la struttura cercherò di esporvi brevemente il significato della tecnica della Kavanah si tratta di una pratica che è un aspetto centrale dell'attività di ricchi come cabalista ma è un aspetto cruciale della meditazione cabalistica sulla parola del testo biblico e sulla parola sagra della preghiera che si ritrova in forme diverse non identiche sin dalle testimonianze cabalistiche più antiche la Kavanah si costituisce come azione distinta dalla avodash el balev il servizio liturgico tradizionale ebraico il rituale si trova ad avere una funzione ulteriore rispetto a quella cultuale attraverso il riconoscimento in esso di un potere che ha di due tipi unitivo e teurgico attraverso questa intenzione potente le parole e le lettere della preghiera si distaccano dalla loro dimensione terrena per congiungersi con il verbo metafisico ed a scendere nelle sfere più alte del corpo mistico quindi la Kavanah permette l'estasi della parola fino a raggiungere l'emanazione suprema fino a raggiungere l'ensof questa ascesa può far pensare al viaggio nei mondi superiori dell'animo umano della letteratura agnostica o le ascensioni ultramondane di Rabbi Akiva e Rabbi Ismael nella letteratura di Ekalot la letteratura dei palazzi celesti in queste opere Rabbi Akiva e Rabbi Ismael potevano contemplare in carne ed ossa i palazzi celesti affrontando i pericoli del viaggio nell'aldilà ma l'ascesa della parola attraverso la Kavanah non è esclusivamente questo momento unitivo ed estatico abbiamo detto che anche un'attività teurgica cioè la parola deve compiere un'azione potente agire sul plero ma divino provocando l'effusione e la discesa dell'influsso celeste più alto nelle strutture inferiori del mondo ed arrecare in questo modo beneficio all'intero corpo metafisico la parola umana è provvista di questa capacità perché le lettere del testo sacro e della preghiera lo abbiamo già visto lo abbiamo già ascoltato stamattina sono considerate consustanziali alla forma divina così l'ascesa ai tratti piuttosto della reintegrazione della parola nella struttura ontologica e metafisica in modo particolare nella scuola luriana che è la corrente cabalistica alla quale Ricchi aderisce la Kavanah ha una valenza performativa e trasformativa ancora più marcata che si coglie in ogni passaggio concreto del rituale liturgico abbiamo visto che Ricchi si trasferisce a Sfat nel 1718 vi rimane per due anni nel centro cabalistico in cui nasce la scuola luriana e che anche in seguito alla scomparsa di Luria rimane per secoli un pollo di attrazione un centro di studi cabalistici Ricchi si trasferisce a Sfat proprio per attingere alla fonte diretta di questi insegnamenti che sono poi però caratterizzati dalla fine del seicento anche da un pensiero radicale messianico complice la diffusione dell'esperienza sabatiana la pratica delle cabanotte presuppone dunque una dimensione metafisica e mitica molto articolata le intenzioni cabalistiche si rivolgono a precise funzioni ad aspetti precisi del pleroma mistico che viene descritto in maniera molto dettagliata in questo senso la cabalà luriana fornisce un sistema particolarmente efficiente per la sua dinamicità e drammaticità questo è l'universo che è stato creato con lo Tsim Tsum di cui poi vi ascolteremo dopo la relazione di Natasha è un universo strutturato in mondi diversi il mondo dell'emanazione il mondo l'Azilut quindi lo Yetzirah il mondo della creazione Beriah il mondo dell'Asia e di configurazioni sefirotiche che sono dette parzufim che sono aspetti molteplici dell'emanazione divina come la Dam Kadmon da cui dopo lo Tsim Tsum scorrono le luci primigenie che prendono la forma delle altre configurazioni denominate Atikakadishah Arikhanpin Abbaim sono tutte figure simboliche molto articolate e complesse e lo Zeiranpin e la sua Nekubah che sono spesso organizzate anche in un sistema proprio di coppie che interagiscono in maniera dialettica fra di loro e in queste coppie si raccolgono diciamo in configurazioni poi le coppie sefirotiche tradizionali da Keter a Malkuth queste interagiscono e si integrano a vicenda in maniera più dinamica che negli altri sistemi cabalistici in un rapporto di unioni erogamiche di cadute e di ricomposizioni si stabilisce inoltre una relazione dialettica e speculare con il mondo umano che si trova in basso la contrazione dell'ensoffa ha fatto spazio non solo alla creazione ex nilo ma ha avuto come conseguenza la creazione del male l'atto successivo del dramma cosmico prodotto di una prima mancanza nell'emalazione divina ma poi anche di una trasfusione in eccesso della luce divina che ha causato la frattura e la dispersione nei mondi inferiori delle scintille divine e dei rivestimenti materiali le kelly pot che dovevano raccogliere questa emanazione si tratta di una frattura metafisica la scevirà che è interna al pleroma mistico e che attende una sua ricomposizione un tikkun le cui conseguenze si rifrangono nel contesto umano e terreno i rituali della vita terrena in sommo grado quelli liturgici sono considerati immagine finita di qualcosa che succede in alto il peccato umano provoca delle ferite nel pleroma che occorrerà purificare e reintegrare ad ogni configurazione delle sefirotte corrisponde una cavanà un precetto e all'inverso una trasgressione quindi le cavanotte sono il sistema per intervenire e rimediare a questa perdita di equilibrio originaria del mondo con Scholem diciamo che sono il metodo con cui si mantiene il mondo creato con lo Zimzum le cavanotte ripetono in particolare a partire dal microcosmo umano il gesto creazionale che però si dirige stavolta non più verso i mondi inferiori ma nel mondo superiore estrinsecandosi nella forma di una meditazione sui nomi santi in particolare sul tetragramma e sulle sue permutazioni e sulle sue possibili e diverse vocalizzazioni le lettere dei versetti biblici vengono scomposte ricomposte e ipostatizzate lo ikud è l'unione tra queste coppie di lettere che si traduce però poi nel mondo superiore in una sorta di ziug di un'unione sessuale nell'universo metafisico quindi la preghiera produce una potenza enorme che viene accolta dalle configurazioni sefirotiche che acquistano un nuovo equilibrio beh a questo punto possiamo passare alla visione dell'opera di Ricchi senza mettere altro tempo in mezzo dunque leggiamo nel frontespizio della prima edizione questo libro è il Mishnat Hasidim che ho composto io il giovane Emanuel Hai figlio del mio signore padre Abraham Ricchi si è preservata la sua memoria nella forma divina nella città di Livorno nell'anno 34 34 sono gli anni che aveva Ricchi quando ha composta quella che viene considerata la sua opera principale l'opera della sua maturità in calcio al frontespizio si legge ancora questo è l'anno delle Kavanot il valore numerico della parola Kavanot è in effetti il 487 ottenuto sommando le lettere ebraiche che lo compongono che in base al computo abbreviato della datazione in ebraico corrisponde all'anno 5487 dalla creazione del mondo ovvero l'anno 1727 della pubblicazione in questo testo tra le altre cose vengono spessi rivelati misteri e corrispondenze tra nomi e numeri secondo la tecnica della gemmatria che rimanda alla realtà ultima ed essenziale di ogni cosa il Mishnat Hasidim è dunque il nome è dunque di nome di fatto un'opera sulle Kavanot pubblicato nell'anno della sua perfezione numerica l'edizione del 1727 comprende 134 carte e alla carta 34esima che forse è ancora un richiamo agli anni dell'autore comincia la parte sulle Kavanot alla cui pratica l'opera è dedicata per oltre tre quarti il titolo rinvia la Mishnah l'opera è suddivisa nei sei ordini che portano lo stesso nome di quelli della Mishnah il testo di Ricchi comprende inoltre 112 massekhot i trattati e il numero 112 racchiude il valore numerico del tetragramma 26 sommato a quello del nome divino Elohim un'ulteriore suddivisione interna poi dell'opera è quella in capitoli per Achim il cui numero complessivo è 547 in questo caso si tratta di uno sfraghiss di una firma dell'autore perché il 547 è il valore numerico del nome Emmanuel Jai Ricchi 535 però sommato al numero 12 delle lettere che lo compongono quindi l'opera è costruita in modo geometrico e regolare come una sorta di quadrato magico e allo stesso tempo una lunga cavanà che serve ad attrarre e a captare influssi metafisici è infine un talismano che richiama in piccolo l'intero universo l'introduzione l'introduzione è sottotitolata olam khaton microcosmo in essa Ricchi rievoca il nome dei suoi maestri Luria e Vital e la sua fonte principale lo Zohar espone qui il suo intento principale che è quello di compendiare e trasmettere le verità rivelate che ha preso a Sfat ma oltre agli ordini e ai trattati di cui si è detto l'opera di Ricchi è soprattutto suddivisa in chiavi Maftechot questo nome rinvia a quello del libro ebraico sulla composizione di talismani per eccellenza il Sefer Mafteach Lomo il libro della chiave di Salomone le chiavi impongono all'opera una tripartizione che rievoca la struttura talismanica di un universo suddiviso in piani comunicanti e in forze che interagiscono fra di loro la prima chiave è quella dei mondi o la mot la seconda chiave è quella delle anime nel shamot ma la struttura si presenta piuttosto sbilanciata in favore della prassi e della performance e la parte più lunga è naturalmente quella dedicata al rituale alle cavanotte la suddivisione in tre piani viene richiamata da una poesia che segue l'introduzione che non ho avuto il tempo di mettere in versi ma poi lo farò con il professor Perani che è un esperto e di rendere in modo meno letterale nella prima strofa o la mot si richiama il momento della creazione e della caduta attraverso la metafora del diluvio il dio nel tempo in cui ha avvolto il mondo con un abito d'acqua il mondo nella terra ha ritratto forse si parla di quella ritrazione in ogni cosa di cui ha parlato Tiziana Galuppi stamattina e in quella ogni arbusto ma la parola siach in ebraico significa anche espressione parola quindi ha piantato e fatto crescere il grano celeste e creato ogni cosa e ogni uomo che ha in sé la parola ancora una volta siach Neshamot è il secondo piano ha insufflato l'anima in lui ed in essa lui fiorisce dalle fondamenta dell'universo alla volta celeste il suo splendore è come lo splendore nel tempo dell'aurora e lo splendore delle stelle che in alto non tramonta Kavanot così farà l'uomo nel tempo in cui interviene con la Kavanah che di lei non c'è qualcosa di superiore perché il suo pensiero cioè il pensiero umano allora raggiunge l'altezza e le fiamme del pensiero divino i serafini dall'alto lo sostengono questa immagine conclusiva richiama il momento dell'estasi mistica e della devecut dell'abbraccio mistico tra pensiero umano e pensiero divino l'immagine della fiamma è una delle metafore più fortunate della Kavanah per spiegare la Kavanah la metafora della fiamma esprime il dinamismo di questo processo di consumazione e di riunione che segue il processo del respiro del mondo e che corrisponde all'apoteosi della Kavanah ma ritorniamo alla forma e alla sostanza del Mishnat Kassidim la prima chiave o la mot contiene la rappresentazione dell'universo metafisico descritto da Luri e Vital nel Seder Zerayim il primo dei sei ordini della Mishnah viene espassa la cosmogonia dello Zimtzum nel Seder Kodashim viene descritto l'universo dell'emanazione lo Lam Atsilut con la presentazione dei Parsufim le configurazioni sefirotiche vengono qui delineate le loro unioni intersezioni i concepimenti e i loro diversi nomi e immagini simboliche nell'ordine Tocharot sono descritti gli ordini cosmici di Beria dei palazzi divini della Yezirah dell'Asia nel Seder Dezikim da anni si tratta della creazione dell'altro lato dell'emanazione il Sitra Acra il lato popolato di demoni e di spiriti che ha contaminato anche il mondo umano successivamente alla caduta delle Kelipot si introduce qui il tema della redenzione del mondo attraverso il Tikkun e la possibilità di restaurare l'ordine divino infranto la seconda chiave detta Neshamot contiene solo l'ordine Nashim tratta dell'esistenza dell'origine della natura delle anime e affronta il tema della reincarnazione del Gilgul della trasmigrazione delle anime che però è connesso a quello della purificazione e del perfezionamento delle anime della loro discesa nel mondo e resurrezione finale finalmente la terza chiave è quella delle Kavanot distribuite nell'ordine Moed leggiamo l'inizio di questa parte alla carta 34 aggiusto sì nell'anno quattordicesimo si deve pregare durante Aravit la preghiera serale senza il tallit perché è vietato indossare il tallit gadol durante Aravit e non bisogna modificare il rito dei padri il minnag nella sostanza della preghiera in quanto la divisione dei riti dei minnagim proviene dalla divisione delle radici delle anime e per ogni minnag c'è una radice che la guida nella sua elevazione e poi dopo e se qualcuno non conosce nella sua anima il minnag che ha appreso dai suoi padri ebbene che si comporti secondo il rito scelto il rito per eccellenza quello che ha ricevuto il rav haim vital le cui cavanot provengono dal divino etzhak luria di onorata memoria e per la maggior parte eseguono il seder della preghiera sefardita al fine di compiere un tikkun che è necessario in alto e non tralasci nessuna preghiera che non c'è nel mondo altrimenti preghiera che possa compiere quel tikkun non ce n'è nel mondo e nemmeno un'altra preghiera simile a quella poiché ciascuna preghiera compie un nuovo particolare tikkun fine della citazione l'intenzione deve essere allora riferita alle preghiere tradizionali senza introdurre al cucchia di nuovo nelle cavanotte di ricchi l'alaka il sistema nomico rimane nella sua forma invariato almeno apparentemente questa concezione è distante dagli influssi antinomici e rivoluzionari sabatiani ma il testo merita un'analisi più dettagliata ed ulteriori accertamenti e non si può appunto escludere un cripto sabatianesimo di ricchi però io personalmente dalla lettura del Mishnat a Khassidim non ho rilevato elementi che vadano in questa direzione in questa sezione dell'opera le berakot le benedizioni l'adempimento di mitzvot i precetti le lodi le preghiere la lettura del sesso sacro sono gli strumenti attraverso i quali il cabalista o in un contesto simile a quello safedico tutta un'intera comunità liturgica possono intervenire nelle sfere più alte per condizionare i processi cosmici attraverso una specifica e insostituibile kavanà nel seder mued ciascun momento richiede un'azione rituale che è anche un'azione specifica e individuale che deve sposarsi con il livello spirituale di ciascun'anima come dice ricchi con la radice di ciascun'anima ogni preghiera è radicata nell'animo umano così come nella struttura cosmica così si susseguono nell'opera le preghiere di aravit di mozzai shabbat la preghiera della mezzanotte il tikkun riferito al modo di indossare tzitzit e tefillin al modo in cui sistemare la mezzuzza e di praticare il rito della circoncisione c'è una kavanà specifica per tutte le feste e per ogni ora del giorno ci sono kavanati indirizzate a ciascuno dei mondi metafisici e all'universo supremo dell'emanazione il loro fine è di volta in volta quello di riunire una particolare configurazione della shekinah detta rachel al tetragramma o ancora di liberare la shekinah in esilio oppure di riunire le due parti del tetragramma yod hei e vaev hei di provocare la discesa dell'influsso divino la yeridat hasafah alcune kavanat sono ancora più dirette abbiamo visto gli yikudim all'unione sessuale in modo particolare a quella dello zerampin con il suo aspetto femminile nanekuvah queste nozze sacre provvedono al trasferimento della potenza ristoratrice negli organi superiori del pleroma senza la preghiera il corpo mistico si indebolisce mentre grazie alla preghiera si provvede all'eliminazione delle scorie del sitra acra e alla redenzione delle scintille di divinità che vi erano rimaste intrappolate la preghiera è dunque un momento essenziale nel percorso che dovrà condurre alla vittoria sulle forze maligne dell'altro lato in quest'ottica le attese messianiche sembrano spostate nello sforzo della comunità cabalistica che realizza nella preghiera il processo di guarigione e di cura del mondo e della storia per concludere vorrei però segnalarvi un breve passo del ticcuno utilizzato da Ricchi per la cura della peste alla carta 85 sappiamo allora alla carta 85 sappiamo che sappiamo che Ricchi si è dovuto allontanare nel 1720 da Sfat proprio a causa di un'epidemia che ha causato la morte di una parte della sua famiglia in particolare della matasorella in questo ticcuno non c'è naturalmente niente di personale e di autobiografico però è interessante osservare come le cavanotte non siano indirizzate esclusivamente ad una finalità teurgica riferita alle sfere più alte ma la discesa dell'influsso divino e la performance che consente la gestione di questa energia soprannaturale può avere anche una finalità terrena e concreta come la cura delle malattie attraverso la redazione di amuleti la peste in particolare era considerata un evento apocalittico causato dalle forze del male e quindi doveva essere affrontata con gli stessi strumenti con i quali si cercava la redenzione delle clickpot il cabalista protagonista di questo lungo rituale di guarigione è Chaim Vital e se nel giorno quarto c'è la luna crescente ed è tempo di peste Chaim Vital andrà prima del sorgere del sole presso l'erba pigam che è la ruta e dirà il salmo 90 il versetto 17 e la grazia del signore è su di noi e l'opera delle nostre mani renda stabile ma in questo caso è piuttosto da leggere e l'opera delle nostre mani è la cavanà presso di noi qui il versetto non è citato interamente ma è soltanto accennato però il fatto semplice di accennare significa che veniva pronunciato integralmente e Vital quindi un richiamo preciso all'uso all'azione della cavanà e Vital risiederà in segreto e dopo ciò dirà io ti raccolgo sta parlando con la con la pianta io ti raccolgo nel nome del Dio di Israele per curare un tale figlio di un tale dalla febbre quindi può essere riferito a qualunque persona di volta in volta bisogna sostituire con un tale figlio di un tale un nome preciso dalla febbre e dalla peste e dopodiché scriverà su un anello d'oro scriverà su una pergamena casher il versetto del salmo 106 30 e allora Pinchas si alzò e fece giustizia e cessò la peste si tratta di cinque parole ciascuna di cinque lettere e non scriverà la parola lettera per lettera come nella scrittura ma ogni lettera sotto ogni lettera e tra ciascuna parola scriverà cinque haviot esseri scritte sempre così una sotto l'altra poi questo rituale continua per tre pagine facendo smembrando il testo biblico permutandolo così quindi questa cosa adesso però per capire come non è diversa questo tipo di cavana dalle altre che magari erano dedicate all'unione delle sefirot soltanto che questa è indirizzata proprio alla cura di una malattia il rituale basato sulla permutazione delle lettere è finalizzato alla composizione di un amuleto non possiamo evitare di pensare che ci sia qualcosa di veramente molto vicino alla magia in questa pratica delle cavanotte e sarebbe interessante poterne discutere e studiarne insieme la funzione grazie Natascia Danieli è una studiosa che si è formata a Ca' Foscari a Venezia con laurea in ebraico e ha fatto in tempo quando Ca' Foscari anche un po' prima della devastazione dei nuovi ordinamenti nuovissimi peggiori un po' più peggio non darmi della vecchia però sostanzialmente quindi insomma diciamo che poi ha pubblicato anche diverse cose e conosce benissimo l'ebraico e ha anche studiato in particolare un altro cabalista dell'area veneta Ramchal lacrostico Moshekhaim Luzzatto sul quale è anche stato fatto sono stati fatti i due convegni che abbiamo anche raccolto tutte e due in un unico volume e che è qui presente ecco e poi comunque adesso non sto a elencare tutti i meriti di Natascia che tra l'altro ha anche aiutato collaborato perché non è che si trova tanta gente oggi che sa leggere le grafie corsive ebraiche magari dei registri di Mantova o di Venezia e adesso lei ha collaborato insomma ha fatto dei lavori per cercare di mettere un po' di ordine capire fare un'inventariazione anche di questi registri comunitari tantissimi a Mantova e poi anche a Venezia e comunque continua a lavorare insomma nel campo così degli studi ebraici e quindi siamo molto contenti di darle la parola per sentire che cosa ci racconta in relazione al convegno che come intende appunto Ricchi il rabbino oggi oggetto di questo convegno il concetto di creazione e autocontrazione di Dio Tsim Tsum nella cabalà settecentesca all'interno della cabalà settecentesca come si colloca il caso del rabbino Ricchi bene allora nel ringraziare tutti coloro che mi hanno invitato il comune di Cento e Saverio Campanini non posso non dire che è un compito assai arduo quello che mi è stato affidato e per dirlo non posso che citare Gershon Scholem che a tutti è ben noto che scriveva nella sua opera più importante Le grandi correnti della mistica ebraica che l'idea dello Tsim Tsum ha avuto una parte di primo ordine nella scuola luriana inducendo a ripetuti tentativi di una più approfondita interpretazione una storia di questa idea a partire da Luria fino ai nostri giorni rappresenterebbe una delle più affascinanti esposizioni dell'originale pensiero mistico ebraico non si può non si può però non sottolineare quanto questo argomento sia vasto e di difficile trattazione anche se si limita questa trattazione al settecento come vogliamo fare noi oggi partirò comunque per forza di cose dal cinquecento perché chiaramente non possiamo parlare dello Tsim Tsum senza fare una premessa a che cosa intendeva Luria per Tsim Tsum perché da Luria si parte tutti i cabalisti partono in particolare quelli italiani sia nel seicento che nel settecento per parlare chiaramente ma anche nell'ottocento per parlare chiaramente dello Tsim Tsum la parola Tsim Tsum si può tradurre appunto letteralmente con le parole contrazione e concentrazione tuttavia la dottrina dello Tsim Tsum abbraccia uno specchio ben più ampio di significati dovuto all'immenso e continuo sviluppo che questa teoria ha avuto appunto nei secoli secondo Scholem il più importante cabalista del cinquecento Luria appunto scoprì la dottrina dello Tsim Tsum in un piccolo trattato del tredicesimo secolo quindi non sarebbe un'invenzione di Luria ma è solo con Luria però che questa teoria acquisì un'importanza straordinaria attraverso la formulazione della sua cabalà Luria ha influenzato qualsiasi pensiero cabalistico successivo e a lui contemporaneo e alla base della sua teoria creazionistica egli propone proprio questa teoria secondo cui l'esistenza del mondo è resa possibile attenzione da un processo di contrazione di Dio concetto non facile da esprimere secondo questa dottrina infatti lungi dall'essere un processo verso l'esterno un uscire di Dio verso l'esterno il primo passo della creazione è piuttosto un ritrarsi di Dio si tratta di un paradosso molto complesso e molto difficile da accettare sia per i contemporanei sia per coloro che a Luria seguirono ma è un paradosso che Luria elabora per rispondere a interrogativi difficili come può esistere il mondo quando l'essere di Dio è dappertutto come può Dio creare dal nulla se può esservi un nulla dato che il suo essere penetra ogni cosa secondo Luria Dio si ritirò da se stesso entro se stesso e con questo atto abbandonando una parte dentro di sé nel vuoto fece spazio per i mondi futuri ad un certo punto all'interno della luce dell'Ensof venne meno l'essenza divina o luce ma ritirandosi tutto intorno nella profondità dell'Ensof cioè l'infinito Ensof infinito scusate e se lasciò uno spazio vuoto al centro in rapporto con l'Ensof infinito questo spazio vuoto è un puntino un puntino piccolissimo ma il rapporto con la creazione cioè con i mondi che ne seguirò è lo spazio cosmico Dio può manifestare se stesso solo perché si è ritratto e ha contratto se stesso questo spazio primordiale attenzione alla terminologia perché poi la terminologia è una terminologia che ritornerà in tutti i cabalisti la terminologia però è differente pochissimo cioè ogni cabalista poi fa come una specie di quello che noi chiameremo un aggiornamento un aggiornamento della parola la arricchisce o la impoverisce o la spiega in modo diverso questo spazio primordiale comunque in Luria è chiamato Tehiru il Tehiru quindi era ancora pieno di tracce quelle che vengono chiamate Reshimo della luce superna poiché la luce divina non si poteva ritirare senza lasciare traccia della sua presenza il Reshimo della luce dell'infinito dell'Ensof becché non identico all'Ensof stesso ha però un potere fortissimo secondo Luria si tratta di un potere santo benché le radici delle forze del rigore che poi avrebbero prodotto quelle che Emma ha giustamente chiamato e ricordato Chilipot le scorie divine fossero mescolate con la luce non posso assolutamente divulgarvi e di spiegarvi tutti gli aspetti di questa creazione e autocontrazione di Dio vi faccio dei brevi accenni e il mio scopo è quello di provocare la vostra curiosità la curiosità di leggere i testi questi testi è chiaro che sono in ebraico e che io li ho letti in ebraico però molti come ha detto giustamente il professor Perani sono stati tradotti negli anni il professor Busi e Saveri hanno fatto un lavoro enorme sui testi cabalistici e questi testi sono tutti o almeno in parte tradotti pertanto li potete trovare se vi interessano alla fine del mio intervento vi do i libri dal quale ho tratto le citazioni comunque le scuole luriane differiscono moltissimo sulla questione cruciale dell'origine del male e delle chelipot Haim Vitalm primo allievo di Luria fece di tutto inizialmente per oscurare l'ardita concezione del suo maestro che vedeva nella formulazione della creazione un atto catartico in cui l'ensof o infinito si purificava del rigore del din latente insito in esso perché si rendeva conto della pericolosità della teoria questa dottrina fu appunto abilmente cerata appare evidente però che tale spiegazione non esclude i paradossi compresi come si è appena detto già degli allievi di Luria stesso anzi fa di questi ultimi punti nodali portanti dell'intera dottrina cioè Haim Vitalm si preoccupa di questi paradossi Luria invece non se ne preoccupa per nulla lui teorizza scrive la sua cabalà e non si preoccupa di spiegarla cioè scrive scusate la predica non la scrive in modo come lui l'aveva interpretata coloro che vengono dopo di lui è talmente forte il pensiero di Luria che alcuni lo espongono altri lo spiegano allora cosa succede prima fra tutti l'idea che l'esilio di Dio il suo ritrarsi rappresenta un fondamento per la creazione del mondo è fortissima in questo modo infatti il primo atto come ho già detto non è un atto di rivelazione non è un atto di svelamento bensì di occultamento e di limitazione solo nel secondo atto cioè in un secondo momento Dio con un raggio della sua essenza procede fuori di sé e dà inizio alla sua rivelazione o al suo di spiegarsi come Dio emanatore la dottrina sostiene inoltre che questo atto di contrazione non è un unico fine a se stesso non è la creazione del mondo e basta ma è un atto che si compie prima di ogni atto di creazione di manifestazione ed emanazione di Dio in questo modo la dottrina non si apre più solamente all'interpretazione della creazione bensì diventa un processo cosmico di duplice natura in cui ogni atto di creazione contiene in sé una tensione una tensione tra la luce che rifluisce in Dio stesso e quella che scaturisce da Lui è questa stessa tensione a far sussistere il nostro creato la lingua di Luria chiaramente costituisce già di per sé una questione forte perché è una lingua immaginifica e antropomorfica e ha solo vato non pochi interrogativi fra cui il primo è più facile come un tal modo di esprimersi può essere compatibile con una religione monoteista in risposta a questa domanda sul finire del XVII secolo e nel XVIII secolo si assistette alla formulazione di due metodi ermeneutici contrapposti coloro che appunto interpretavano la dottrina dello Zimtzum alla lettera e coloro che invece la interpretavano come una metafora un'allegoria in Italia l'interpretazione della cabala luriana nei secoli XVII e XVIII occupa un posto essenziale infatti in Italia più che altrove il divulgarsi del movimento messianico del sabattianesimo sapete tutti cos'è il sabattianesimo? ok, bene accentuò l'importanza dei testi scartati o occulti scusate del sabattiano accrebbe la virulenza della controversia nata di Gaza appunto il profeta sabattiano accentuò l'importanza dei testi che inizialmente di tal scartò e l'importanza dell'audace allusione che l'intera dottrina dello Zinzum fosse una catarsi divina dove lo scopera quello di eliminare le forze del rigore come una sorta di prodotto di scarto dell'essenza della divinità nel XVIII secolo altro elemento fondamentale secondo Joelle Anselme anche secondo me una studiosa francese di cabala ebraica e di rapporti tra razionalismo e filosofia ebraica le opere sono le opere cabalistiche e le opere degli autori ebrei italiani sono tutte influenzate dalla divulgazione del sabattianesimo e quindi dalla pericolosità instita nel sabattianesimo dalla cabala luriana e soprattutto anche dal razionalismo dalle prime teorie razionaliste che il mondo maggioritario cominciava a filtrare nel mondo ebraico è in questo contesto che Joseph Ergas autore ebreo che nasce nel 1685 e muore nel 1730 pubblica nel 1715 a Londra due opuscoli antisabattiani ovvero in traduzione aperto e rimprovero un versetto dei proverbi perché tutte le opere in quel periodo moltissime opere avevano i titoli delle opere che erano costituivano dei versetti biblici sono versetti biblici che hanno la funzione di essere il titolo dell'opera e la parte del serpente e il nostro Immanuel Hayricchi pubblica sempre ad Amsterdam nel 1727 la sua opera Mishnat Hasidim di cui Emma vi ha ampiamente parlato un decennio dopo nel 1737 Ricchi pubblica un'altra sua opera Yosher Levav Cuore integro Cuore giusto e nel 1738 viene pubblicata a postuma l'altra opera maggiore di Ergas Shomere Munim è evidente quindi che la pubblicazione di queste opere caratterizzano una fase fondamentale nei dibattiti che agitavano tutte le comunità ebraiche italiane e non solo visto che le opere vengono pubblicate ad Amsterdam nel XVIII secolo vale a dire sulla divulgazione della cabala luriana e sull'aspra controversia tra i sostenitori e gli oppositori del sabattianesimo Attaccando le radici della stessa eresia sabattiana Ergas si sforzò di dimostrare che lo zimzum di Luria non avrebbe dovuto essere interpretato letteralmente bensì come una metafora progettata per esprimere la transizione dall'infinito al finito e per permettere l'accesso limitato e finito all'esistenza mentre i sabattiani fanno riferimento ad un'interpretazione letterale dell'atto dello zimzum chiaramente la maggiore vicinanza di quest'autore cioè di Ergas al movimento sabattiano lo pone in un contesto di opposizione netta che Immanuel Hayricchi invece percepisce anche se solo un decennio dopo in modo più affievolito meno pericoloso in uno dei due opuscoli che vi ho menzionato Ergas scrive vi cito ecco questo miscredente intendendo con miscredente il celebre sabattiano Hayun ha compreso il segreto dello zimzum letteralmente e ha radicato l'eresia stessa dicendo che se l'infinito non è né un inizio né una metta né un fine né una metà né un fine come può esistere lo zimzum se è tutto pieno dello stesso quindi ritorna ai problemi originari la confutazione della lettura letterale dello zimzum di Ergas continua nella sua opera maggiore appunto Shomere Munim guardiano della fede pubblicata postuma pensate con l'approvazione di Immanuel Hayricchi tra le tante approvazioni degli rabbini di Livorno che l'hanno approvata Immanuel Hayricchi che poi entrerà in polemica con questa lettura letterale dello zimzum contenuta del Shomere Munim perché solo per un decennio in un decennio Immanuel Hayricchi ha elaborato una teoria differente non percependo più il pericolo della lettura letterale contenuta nel movimento sabattiano abbandonato lo stile polemico dei trattati antisabattiani persino Ergas scrive in modo differente e scrive quest'opera in forma di dialogo vi dico è importante anche capire in che forma vengono scritte queste opere perché nel settecento le opere in forma di dialogo sono molte anche il Ramchall ne scriverà una e sono importanti perché sono opere influenzate dal razionalismo dal cercare di far capire a chi legge a chi andrà a interagire con queste opere i concetti e le conclusioni chiaramente un'opera di dialogo con domande e risposte semplifica i concetti rispetto a un'opera teorica come può essere l'esposizione della Mishnat Hasdim che abbiamo visto per Ergas qui cito di nuovo chiunque spera di capire di comprendere lo Zinzum fedelmente in modo letterale cade in diversi errori e contraddizioni nella maggior parte dei principi della fede non posso qui divulgarmi su come Ergas elabora questa cosa la elabora in cinque punti differenti e poi in dieci paragrafi questo comunque lo scrive Ergas perché ovviamente se si interpretasse lo Zinzum letteralmente ci dovrebbe essere un posto secondo lui dove non è presente l'infinito secondo questa interpretazione la nozione di Zinzum porta a nuova vita alla teoria creazionistica lineare della prima cabala luriana e la trasforma dialetticamente questo disegno di Ergas va letto alla luce del contesto antisabattiano e ha un chiaro significato ideologico dato che come vi ho detto la società del ghetto ebraico percepisce i primi scossoni di un terremoto che quasi lo travolse il terremoto sabattiano negare la realtà letterale dello Zinzum significava infatti distruggere uno dei pilastri su cui l'edificio sabattiano si fondava nell'esposizione della cabala luriana di Ergas e poi di molti cabalisti del Settecento si compie un passo ulteriore perché nei cabalisti del Seicento da Menachem a Zariafano a Moshe Zaccuto le esposizioni non contenevano il secondo livello cioè il livello esplicativo il livello di spiegazione ma davano semplicemente la divulgazione della cabala luriana su questo aspetto influisce molto il dibattito che vi ho già menzionato razionalista che influisce sia in Ergas sia più tardi in Ranjal che sentono entrambi l'esigenza di chiarire che la cabala rinvia ad una serie di idee fondate sulla ragione in Shomere Munim di Ergas l'allegoria è interpretata come il rimedio alle difficoltà poste dalla materialità della lingua cabalistica quella lingua antropomorfica immaginifica di Luria di cui vi ho menzionato e quindi gli fa dire al suo razionalista tutto è allegoria maschal tutto è immagine di Mion tutto è segno come diceva il rabbino delle forze superne emanate da Dio dove però queste parole sono parole intese in senso cabalistico non intese o meglio possono essere intese in entrambi i livelli intese in senso cabalistico ma anche intese in senso più divulgativo benedetto sia il suo nome per dirigere il suo mondo con loro e che sono disegnate con il nome di Sefirot quindi leggendola in altro modo e girando la frase le Sefirot sono allegorie immagini segni abbastanza forte come scrittura solo un decennio più tardi quando l'eresia sabattiana sembrava più distante il disegno di Ergas fu criticato come vi ho detto da Immanuel Hayricchi che pur aveva approvato Shomere Munim prima nel suo libro Mishnat Hasidim questo libro di cui non vi dirò molto perché vi è già stato detto quasi tutto o quantomeno il necessario ancora più marcata però la critica di Ricchi si mostra nell'opera successiva Yosher Levav dove l'autore espone le sue opinioni sul significato della cabala luriana e in particolare sul problema dello Zimtzum cioè il cuore dell'opera Yosher Levav è lo Zimtzum la prefazione dell'opera è molto interessante Saverio sarà contento perché i sogni di sogni adesso ne parlo io così completiamo quello che ha detto lui Ricchi indica in quali circostanze fu indotto a scrivere quest'opera e perché la intitolò in questo modo allora cito il primo giorno di Rosh Hashanah 5497 la corrispondenza l'ho fatta io e la prendete come tale 6 settembre 1736 quando mi ero stabilito con la famiglia ad Aleppo in una regione che ha lo stesso carattere di santità che ha la terra di Israele mi svegliai con nella mente il versetto salmio 81 20 la tua via fu in mezzo al mare i tuoi sentieri dopo le grandi acque e le tue orme non furono riconosciute subito Ricchi cosa dice è una nevoa una ktana perché questi cabalisti insomma passate nel termine un filo di egocentrismo ce l'hanno quasi tutti pertanto loro non è che pensano ho fatto un bel sogno loro pensano ho fatto un bel sogno ma che nasconde una piccola profezia d'altronde insomma pensare di essere il figlio insomma comunque a prima vista Ricchi non sembra trarre grande insegnamento da questo versetto fino a quando scrive continua a scrivere in un altro giorno dello stesso mese mi sono svegliato e un altro versetto cadde nelle mie labbra ed esso è il versetto conoscere il dio di tuo padre e servirlo con un cuore integro è un'anima ansiosa il nostro cabalista comincia a riflettere sui due versetti e riflette per un lungo periodo quasi un mese fino al venerdì 5 ottobre 1737 vale a dire il giorno della luna nuova del mese di Eshvan e scrive la mia mente occupata dalla stessa domanda che si è posto il Maimonide a proposito della scelta e della volontà della conoscenza del creatore come può conciliarsi l'una con l'altra ovvero sia come può l'onniscienza di dio conciliarsi con la libertà di scelta del creatore chiaramente Maimonide ne aveva parlato ampiamente replicando ad Abraham ben David di Poschier Ricchi ammette che da anni si sta sforzando di trovare una risposta a questa interrogativa e quindi capiamo il processo che lui ha fatto in questo decennio e afferma da questo sale nel mio pensiero tutti i giorni di occuparmi dell'argomento dello Zinzum se è giusto intenderlo in senso letterale oppure no si può esitare tra le due ipotesi nemmeno lui è proprio così certo della risposta e continua un sabato santo il secondo giorno di Eshvan sabato 6 ottobre 1736 quando il Nehuak Tanah dice mi si rinnova caddero due versi nella mia bocca o mi si affacciarono alla mente l'ardore stesso senza conoscenza non è cosa buona e chi cammina in fretta sbaglia strada e la legge della tua bocca viva il meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento fine della citazione Ricchi e Ricchi ovviamente interpreta questa indicazione come la fine della piccola profezia come un'autorizzazione nonostante la difficoltà chi cammina in fretta sbaglia strada a mettere le sue idee per iscritto e dato che uno dei versetti che lo aveva messo sulla strada della scrittura parlava di cuore integro non può che chiamare intitolare la sua opera appunto Yashir Levav cuore giusto cuore integro e poi completa la spiegazione dicendo che quest'opera è per la sua opera più importante il Mishnat Hasidim come l'anima per il corpo allora se la Mishnat Hasidim è nelle sue intenzioni un Mishnet Torah applicato alla Kabbalah o vorrebbe essere un Mishnet Torah applicato alla Kabbalah quindi una spiegazione completa che deve eludere tutti i dubbi che un Kabbalista deve quando si pone a leggere i testi kabbalistici di Luria questo significa che per Ricchi l'anima della Kabbalah Luriana non può che essere lo Zinzum perché l'argomento del Yashir Levav è senza dubbio lo Zinzum e a questo punto Ricchi affronta la questione che gli interessa in modo teologico quanto si comprende è che la causa prima è chiamata dei Kabbalisti con il nome dell'Ensof in realtà io qui ho trovato la parola amittim e sarebbe Kabbalisti veritieri ma mi sembra un po' forte vorrei cercarla in Ricchi se intende proprio Kabbalisti veritieri eh esatto insomma perché in verità l'Ensof è senza fine la sua esistenza la sua unità la sua potenza e la sua provvidenza cioè i suoi attributi divini sono senza fine la trattazione degli Osher Levav continua appunto affrontando questi attributi divini la esistenza l'unità la potenza la provvidenza e citta il Talmud però dice attenzione però il rabbino sicuramente potrebbe precedere questa citazione che chiunque esamina queste quattro cose meglio sarebbe che non fosse venuto al mondo ciò che sta sopra ciò che sta in basso ciò che sta davanti ciò che sta dietro quindi lui dice io provo tento però è un campo pericoloso molto pericoloso e conclude della sua prefazione riprendendo la prefazione di Haim Vital Ashara a Kadamot molti mondi sono stati creati emanati formati e costruiti migliaia e tutti come fossero uno stanno nel vuoto Halal che è stato evocato e al di fuori del quale non c'è nulla non c'è nessuna creatura al di fuori di quel luogo queste sono le premesse per arrivare secondo Ricchi al vero cuore della questione vi leggo un brano un po' lungo e forse anche un po' ostico cercate di fare attenzione nonostante l'ora tarda quando è giunto il tempo per la sua volontà santa di uscire dalla potenza all'atto per creare i mondi per creare per la prima volta dal nulla un essere lo fa per dare la sua bontà all'essere creato da lui stesso in modo che noi potessimo conoscere la forza della sua potenza egli contrae l'ampiezza della sua forza a partire dalla gloria della sua essenza e ha aperto un vuoto un luogo vuoto rec e non c'è in esso nulla per crearvi un essere dal nulla che conosca la sua potenza e viva della sua bontà per concedere a quest'essere esistenza e stabilità dall'essenza del suo essere internamente ed esternamente e continuando nella sua grande bontà ha fatto uscire una sottile linea a partire dall'essenza del suo essere è come se avesse allungato un suo dito al centro del residuo roshan che rimane nel vuoto halal dello zinzun a partire dalla luce dell'essenza del suo essere quando ha lasciato questo luogo e non continua questa linea da un lato all'altro del luogo dello zinzun bensì vaga nel mezzo come scritto negli scritti diari è evidente quindi che per ricchi l'atto dello zinzun lo yeshmeain non è una metafora bensì ad intendersi in modo letterale è attraverso la luce primordiale concessa da Dio dopo il primo atto di autocontrazione della creazione che il mondo può sussistere e la creazione continuare e ripetersi infinite volte anche Jakov Emden vissuto successivamente quasi due secoli dopo Luria e presso che contemporaneo 50 anni dopo Ricchi interpreta la dottrina dello zinzun come il primo serio tentativo di spiegare in termini concreti la creatio ex nihilo secondo Ricchi e secondo Emden Ergas non ha fatto questo passo successivo di interpretare la creazione come una creazione dal nulla la polemica perché la lettura metaforica non lo prevede la polemica di Ricchi contro Ergas apre un nuovo capitolo nella storia della controversia dall'interpretazione letteraria e quella allegorica dello zinzun che non è più quella tra ortodossia e sabbatianesimo ma si svolge tutto all'interno dell'ortodossia influenzato pure Ricchi dal dibattito razionalista egli non si accontenta di allontanare la materialità della sostanza divina se l'ortodossia di Ergas era tutta attesa alla difesa dall'eresia quella di Ricchi invece è un letteralismo privato di ogni elemento eterodosso e attraverso il rifiuto parziale della visione speculativa la cabalà che egli elabora è un ritorno alle sue origini profetiche che si lega profondamente al momento della rivelazione a dispetto della loro comune appartenenza all'ortodossia l'interpretazione dello zinzun di Ergas e Ricchi che in realtà Ricchi fa questa polemica risponde a Ergas ma in un certo senso quasi lo rispetta non entra mai in polemica aperta questo lo dico perché avendo studiato molto a lungo dall'epistoleo del Ramkal la vera controversia contro un rabbino che viene accusato di sapatianismo che viene accusato di essere un falso messia la polemica quando i rabbini la fanno tra di loro si percepisce come tale e viene fatta a sondi lettere responsa in modo molto più forte con delle opere che si rispondono una vicenda insomma ma con diciamo eleganza se vogliamo il già menzionato Ramkal un shekhaim Luzzato nato a Padova nel 1707 morto ad Acco nel 1746 sposta la sua attenzione dall'interpretazione dello zinzun a quella delle sefirot e dell'emanazione del mondo Luzzato elabora una dimensione ulteriore e introduce il modello della profezia biblica quindi state attenti Ricchi era tornato alla profezia partendo dall'analisi del rapporto tra finito e infinito che sono per sua stessa missione difficili da descrivere poiché si tratta di giustificare il passaggio dalla divinità infinita alla materia finita allora quello che io non so e non sono riuscita a trovare è se Luzzato abbia effettivamente avuto in mano le opere di Ricchi perché quello che è certo è che Luzzato si sia confrontato con le opere di Ergas e che Ergas abbia anche letto le opere di Luzzato perché lo scrive pure nelle lettere dice al maestro di Luzzato Isaia Bassani e scrive ma insomma io ho letto Ikelalim di questo tuo allievo insomma mi sembrano anche molto non mi sembrano mi sembrano tutte delle ripetizioni di Cordovero mi sembrano prive di vera novità che insomma per noi che Ramkhal lo riconosciamo come un'autorità adesso è un po' forte da sentire comunque naturalmente Luzzato spiega questo passaggio attraverso il concetto luliano dell'Otzimtzum l'infinito anche per Luzzato ha un numero infinito di aspetti o forze ma l'intelletto umano si può occupare solo di quelli che sono l'origine del mondo la forza da cui è prodotto il mondo subisce una riduzione Otzimtzum tenete all'orecchio che le parole la lingua è sempre la lingua di Luria cioè attraverso i secoli le parole sono sempre le stesse i concetti sono rielaborati ma partono da una base sempre ferma e rinuncia così all'infinità in un'opera di impronta sistematica anche se non composta in forma di dialogo i Kelach Picquet Cocma 138 Porte di Sapienza che si differenzia dagli altri scritti cabalistici di Luzzato perché la base è che riezierà il libro della formazione Luzzato scrive e cito dalla traduzione di Busi a proposito della nozione del procedere della sua azione verso l'esterno l'ensof infinito sia egli benedetto desiderò lasciare il proprio infinito e lo trasse a sé attraverso un'azione limitatrice ciò è chiamato il contrarsi dell'ensof infinito sia egli benedetto ma come è possibile passare dall'infinito al finito? la risposta di Luzzato è semplice l'infinito conteneva già il finito è la volontà divina a decidere di manifestare questi limiti e attraverso questo passaggio di svelamento la volontà divina che è per la sua stessa essenza al di là di ogni conoscenza si rende conoscibile ovvero secondo un linguaggio kabbalistico visibile attraverso questa riduzione viene a crearsi uno spazio vuoto halal nel quale si manifesta la radice del giudizio rigore din che altera la perfezione iniziale la luce infinita resa visibile grazie alla riduzione della forza divina è appunto chiamata reshimu tracce cioè l'impressione roshem di quella infinità questa abilità di rendere in modo sistematico concetti di difficile comprensione ha permesso sia Ergas che all'Uttato di diventare un riferimento per alcuni movimenti ottocenteschi e qui vado a concludere adesso che ho fatto una corsa abbastanza forte è di nuovo un modo per provocare le vostre curiosità e questo è il caso del Tikkun Aklali o dello Zinzum in Achman di Bratlav che voi conoscerete come uno dei movimenti messianici all'interno dei movimenti chassidici che riprendendo forse l'Uttato quasi sicuramente tenta di integrare la nozione di Zinzum nella sua visione messianica radicale cito questa luce emanata è detta residuo reshimu della luce primordiale il mistero di tale residuo è denominato luogo di tutti gli esseri già che conferisce loro l'esistenza cosa che non faceva l'infinito tale luogo è vacuo halal e privo della luce dell'ensof già che l'infinito non si trova in esso come all'inizio nel suo approccio Nachman di Bratlav ha seguito inizialmente il classico punto di vista cabalistico secondo il quale il Dio creò la sua assenza proprio al fine di consentire la creazione ma poi amplia tale interpretazione in modo che la nozione della presenza di Dio nella creazione non soppianti completamente la creazione iniziale del vuoto così che il vuoto viene interpretato come esperienza empirica dell'assenza di Dio il movimento Chabad la interpreta in modo completamente diverso o quantomeno con significati diversi perché si rifà all'antilateralismo di Ergas perché sia nei tratti dello Zohar sia negli scritti diari sia benedetta la sua memoria quando chiamano le cose materiali scusate questa è una citazione di Ergas e parlano di eventi corporei con nomi nobili di certo il lettore non deve comprendere che queste cose siano interpretate in modo letterale vensì piuttosto e gli devi dirigere il suo pensiero e guidarlo verso la verità privandola dei gusci delle afore tenete conto che questo non è un passaggio della Mishnat Hasidim ma dei due opuscoli antisabattiani quindi il movimento Chabad non percepisce più il pericolo di questo tipo di lettura e Schnorr Zalman di Liadi nella sua nota opera Tania afferma è del tutto impossibile interpretare la dottrina dello Zimtzum letteralmente perché è un fenomeno che riguarda la corporeità del santo e che se interpretato in questo modo comporterebbe una divisione dello stesso in miriadi separate ad infinitum bene quanto volevo dirvi l'ho concluso io intendevo come ho detto suscitare la vostra curiosità non intendo dare risposte Luzzato chiaramente si colloca né in una lettura né in un'altra perché i paradossi per questi kabbalisti non sono così importanti da risolvere sono delle chiavi di lettura che come tali arricchiscono i pensieri successivi e quelli dei contemporanei perché dai paradossi si vivifica la Kabbalah si torna a vivere di vita nuova nel pensiero di altri è un processo continuo quello che ha detto il rabbino stamattina mi faceva ridere adesso sul ridere perché io l'ho detto allo stesso modo dei kabbalisti dire le cose in modo semplice esprimere i concetti in modo semplice concetti estremamente complessi cioè questa lingua antropomorfica questa lingua immaginifica questa Kabbalah difficile da interpretare se espressa con concetti e con parole semplici può arrivare può secondo me suscitare la curiosità sia del lettore ebreo che conosce la lingua ebraica sia magari del lettore non ebreo il mio auspicio è che questo piccolo convegno abbia suscitato il fuoco e che si possa effettivamente capire se anche il nostro Immanuel Kairiki nel suo piccolo ha influenzato i movimenti ottocenteschi se è stato letto dall'uttato se si troveranno delle prove in forma di questa commissione anche con il nostro modesto autore bene quindi insomma la conclusione è che non dobbiamo dire cose troppo chiare troppo semplici perché spengono mentre invece più ci sono paradossi più siamo accesi siamo interessati questo è un commento così sciocco no io se per caso intanto magari qualcuno vuole vedere se rompe il ghiaccio per una domanda se ce ne fosse qualcuna volevo semplicemente ricordare che per le fonti ebraiche pieve in realtà non c'entro però insomma sono così vicini che posso menzionarlo insomma c'è questa parola Arurra perché molti anni fa Saverio scrisse un articolo su Arurra a pieve che vuol dire maledetta no maledetta pieve perché era morto e annegato il figlio di un banchier esatto no e questa mattina ho risentito questa parola per i due soldatacci che hanno ammazzato ricchi no Arurim e quindi no questo non vuol dire assolutamente nulla invece io ho trovato cioè volevo semplicemente farvi presente che le pagine più complete più aggiornate più belle su Ricchi penso adesso non ho visto tanti altri studi però come scheda iniziale c'è un repertorio in francese molto bello compilato da Aschersala nel 2007 che è Rabin écrivain écrivain é médecin juif en italie au 18ème siècle pubblicato per Brill nel 2007 ho visto che le pagine che lui dedica a Ricchi sono le più aggiornate le più ricche di bibliografia di cose così e lì ho trovato che citava a me come una fonte dicevo ma cosa e sono andato a vedere in un mio contributo in quegli atti del convegno sugli ebrei a cento fatto temporibus illis copertina verde scuro io elencavo sia manoscritti o frammenti o copiati o che si trovavano a cento e ho visto che c'è un manoscritto copiato da Avram Rafael Sereni nel 1858 probabilmente a cento in cui copia alcune preghiere di suffragio da recitarsi sui sepolcri di importanti rabbini Netanel Segre Iosef Eliscia Modona ma anche Immanuel Kairiki ed altri defunti tumulati nel cimitero di Cento ecco quindi anche questo si potrà vedere questa poesia o questa preghiera per cosa ecco allora non voglio fare domande non vi spaventate no volevo soltanto fare questa osservazione le ultime due relazioni ci hanno proiettato violentemente direi su delle dimensioni assolutamente al di sopra di noi ecco con molta violenza e suscitando molto molto interesse io mi compiaccio per questi studi affrontati non facili affrontati con con grande entusiasmo questa è una prova di quanto vi dicevo all'inizio che se vogliamo studiare in modo organico la figura dei ricchi dobbiamo dedicare molto più tempo e anche molta più riflessione sapete che la cabbalà il mondo della cabbalà è un mondo straordinariamente difficile che va affrontato con molta calma dicono che non va affrontato prima dei 45 anni ora con l'aumento dell'età media direi andiamo a meno 60 perché intanto è molto difficile poi costituisce un grande pericolo perché è straordinariamente affascinante e quindi può capitare che ci introduciamo in un certo argomento e rimaniamo affascinati e poi perdiamo il senso il senso della realtà quindi direi di ridimensionate io ho visto che l'ha fatto anche la signorina che dopo averci signora scusi meglio così grazie che dopo averci proiettato in questo mondo etereo si è messo a bere quindi non ha dimenticato le sue dimensioni le sue dimensioni fisiche comunque qualcuno me le fa ricordare non è colpa mia ecco dicevo questo allora io spero che che ci rivediamo non troppo in là nel tempo per riprendere questo discorso con più calma elaborando le idee che oggi ci sono state fornite vorrei concludere in contrasto con l'amico Mauro che più volte ha citato la parola arur arurim arurà la maledizione io viceversa in contrasto con l'arurà pieve maledetta sia pieve io concluderei con berrujà cento sia benedetta cento che ci ha dato questa occasione è giusto quindi il prossimo convegno sarà sicuramente a cento e se da pieve arriveranno delle iniziative simile noi le rispingiamo grazie grazie